Allora la situazione attuale in Abruzzo è un po' variegata, nel senso che nella nostra provincia, provincia di Pescara, stiamo osservando una diminuzione di casi, mentre invece nell'Aguilano ci sono parecchi casi, soprattutto in alcune zone della Marsica, ma questo tutto sommato è abbastanza presumibile perché adesso vediamo alcuni focolai che si stanno spegnendo, grazie anche alle temperature più alte e altre che si vanno a formare. Questo periodo, un periodo di transizione, aprile e maggio, saranno due mesi dove vedremo spegnersi diversi focolai e magari accendersi dei piccoli focolai. Sicuramente quando arriveremo a fine maggio la situazione, come già abbiamo osservato l'anno scorso, sarà nettamente migliorata in termini sia di tamponi positivi, quindi di nuovi casi, sia di ricoveri e sia fortunatamente anche di decessi. Quindi passeremo tre mesi, suppongo giugno, luglio e agosto sicuramente con un minor numero di casi. Ciò non toglie che il virus però avrà la possibilità in maniera sintomatica di circolare e quindi dovremmo essere bravi quest'estate, più che nella passata estate, parlo dell'estate 2020, dovremmo essere tutti quanti molto bravi a non far circolare il virus. Di arrivare quindi ad ottobre, novembre con un minor numero di casi presenti sul territorio. Poi c'è da considerare anche la nota positiva, diciamo, dei vaccinati e quindi aumenteranno sempre di più. Ovviamente si farà una specie di immunità di greggi per cui il virus avrà ancora più difficoltà a circolare. Cosa significa? Significa che sicuramente nel prossimo inverno e forse anche nell'inverno 2022-2023 avremo ancora il virus che circolerà, sicuramente, perché non ci sono al momento dei sentori di un ceppo virale che tende a deverulentarsi. Ma prima o poi si deverulenterà. Noi nelle prossime invernate avremo ancora il virus che circolerà, ma probabilmente ci sarà una mini-ondata e non una ondata di proporzioni importanti come quella che fu nel novembre-dicembre e anche in parte ottobre 2020. Una cosa invece che volevo precisare è questa. I vaccini attualmente presenti sul territorio nazionale e sono AstraZeneca, Pfizer e Moderna, riescono a garantire da una patologia maggiore. Quindi il vaccinato praticamente non dovrebbe, se ovviamente risponde, avere una polmonite intestiziale, ma potrebbe far circolare comunque il virus perché potrebbe essere asintomatico o sviluppare una piccola malattia, così come già abbiamo osservato in qualche soggetto vaccinato. Questo perché questi vaccini non riescono, nella stragrande maggioranza dei casi, a sterilizzare le prime vie aeree. Quindi ovviamente si ha la possibilità di infettarsi e di conseguenza di contagiare. L'appello è rivolto ai vaccinati perché non dobbiamo abbassare la guardia, perché pur essendo vaccinati potremmo comunque regalare, tra virgolette, l'infezione a qualche altra persona e non è ovviamente giusto per un discorso di dovere civico che tutti quanti noi dobbiamo avere.